Musica E bella a tutti ragazzi dal vostro Jap 881 Ben ritornati qui su FIFA 20, sulla demo Siamo qui, andiamo nel calcio d'inizio Oggi vi farò vedere un nuovo stadio Perché ho scoperto che ce ne sono tre in questa demo Anche se non sono d'accordo ragazzi C'è lo stadio del Chelsea e del Tottenham Boh, perché non hanno messo l'Anfield Road a sto punto? Boh, perché non hanno messo una squadra italiana al posto del Chelsea? Vabbè, comunque Vedremo lo Stamford Bridge E giocheremo contro il... Il... Facciamo Chelsea e Dortmund Borussia Dortmund Facciamo un po' di gestione squadra Mettiamo il portiere al posto dell'altro portiere E niente ragazzi, possiamo giocare Giocheremo con esperto Ovviamente Metterò campione dopo ragazzi Perché È un calcio Inizio Volume delle cronache a tre Va bene E via Voglio imparare bene Prima con esperto Tutte le dinamiche E poi ragazzi Passeremo alla difficoltà Campione Come ho sempre fatto su tutti i FIFA Via Andiamo a giocare Vi farò vedere tutta la presentazione Per farvi godere lo stadio È uno spettacolo Comunque raga Sto gioco Ci sto nerdando un sacco Eh? Raga Quest'anno su FIFA 20 Ci saranno le stagioni Che avranno durata di un mese In cui Potremmo Fare Delle sfide Degli obiettivi Cioè Che ci porteranno delle ricompense Una volta completati Cioè Delle carte Degli stadi E dei contratti Bello ragazzi Bello Ci sarà da divertirsi Quest'anno Ci scapperà una serie assurda Per gli obiettivi E niente Ora pensiamo a giocare Dai Vi voglio giocare Una partita Abbastanza bella Useremo tutte le squadre Come già vi ho detto Nel video Dell'altro giorno Ragazzi Che mi avete fatto 35 visualizzazioni E 6 like Grandissimi Grazie Continuate a spolliciare Per FIFA E per tutti i miei video Mi raccomando Per un inverno Ricco di contenuti Per questo gioco E per tanti altri giochi Bella ragazzi Bella Che passaggio Mi sto dilettando Anche con le skill Anche se io gioco Con credo Ve lo dico Ho messo Il volume Della telecronaca Babassoso Per Se no Non mi senti Da me Si fa un po' Strocchio Di voci Vai 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 Offensivo Va Mentalità Offensiva Mamma mia Che parata Che fa Mamma mia Vabbè che era fuori gioco Però Non mi è mai piaciuto Il giro come attaccante Però dico Come cambiano Banti Di entrare in inghilterra E' incredibile Comunque No Vai Vai Mettila in mezzo Vai Maggia Santana Vai 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 Che bomba Abbiamo tirato Che siluro Era questo Vai che stiamo Incominciando Ad attaccare Vai No 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 Cazzarola Cazzarola Vai Ho cercato Di fare il tegel Ci hanno perculato Qua Bella azione Bella azione E bella partita Soprattutto Vai Aspili Queta Dai Bravo Bravo Che Vai Subito No Madonna Santa Soprattutto No No Aspili Aspili Queda Questo era fallo da giallo Va bene Non fa niente Ha dato il vantaggio No Bravo Che Che portiere Comunque Mamma mia Ragazzi Qui Su questo gioco Finalmente Su questo FIFA Il gioco Lo fai Tutto tu Sia in difesa Che mi attacco Mamma mia Mamma mia Ora sto capendo Quello che diceva Jron7 Porca puttana Vai vai I cori all'inglese Mamma mia Che ricordi Che inverni passati A Madonnare A divertirmi Quando andavo a scuola Quando ero in disoccupazione Soprattutto Vabbè Mai dietro Mai Perché dietro No Perché sta cosa Vabbè Non fa niente Ah Peccato Vai William Giro Va a festeggiare Sotto la curva Dei supporter Del Chelsea Allo Stamford Bridge Vai Giapp 881 In vantaggio Guardate Che azione Guardate Vai Madonna Madonna Santa Celse Ci ha sentito Forse Quando ha detto Che non mi è mai Piaciuto Cazzo Ora stiamo Attenti A non A dire gol Voglio fare Il secondo Vai Vai William Grande Grande Dovevi passare Dovevi passare William Vaffan 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 Bagos Vai Vaffan Baggets mannaggia vai vai che stiamo siamo partiti male ma ci bella di tacco grande metti il no no dovevi metterla in mezzo prima bella azione comunque bella no che cazzo ho fatto volevo fare il cross di prima ho fatto una cazzata vabbè dai bella piazzato bene in difesa william vai no 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 vai pedro no giorginho no vai aspili quella vai per cante si 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 pedro tiro no che siluro raga che siluro che siluro un siluro di pedro non missi da ciel serena in mezzo ancora ancora girù ecco in queste occasioni non mi piace torchi nasard mi sembra che è fratello di eden si se non mi sbaglio si vai 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 per pedro vai che veloce pedro bella cambi vai no ci ho provato vabbè dai 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 madonna comunque lottata è bella e vabbè fuori gioco ingolo cante in fuori gioco rivediamo si 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 era fuori gioco era beh bella almeno girù ha fatto un assist decente e ci ha fatto vincere la partita pure bella ragazzi bella 1 a 0 per me Chelsea Borussia ragazzi nella prossima partita vi farò vedere lo stadio del Tottenham Motspur il Tottenham Stadium appunto ragazzi bella a tutti mi raccomando spolliciate ancora per questo video iscrivetevi al canale bella a tutti ragazzi e varial command dal vostro Giappa 881 bella bella